Tonella Rocca ha intrapreso l'attività di cantautrice e nei prossimi giorni a Roma partecipa ad un premio importante, il premio Lucio Dalla, uno dei cantautori più importanti della storia nazionale italiana e sicuramente i risultati saranno tanti e piacevoli, ma come cantautrice organizza anche nel territorio siciliano degli appuntamenti e dei casting che sicuramente daranno lustro ad altri ragazzi. Con questa missione romana, come viene strutturata, come viene organizzata e vissuta? Parto per questo grande evento in cui sono stata invitata grazie al mio essere cantautrice e autrice dei miei stessi brani. Sono stata invitata da Maurizio Meli per questo evento bellissimo, il premio Lucio Dalla, cui sono molto onorata di partecipare con il mio brano Orasieliti. Il 19 ci sarà il gran finale, quindi ritorniamo la domenica mattina.